Lascia devastazione al suo passaggio la tempesta tropicale che da due giorni sta investendo la regione asiatica del sud-est. Jiangmi, questo è il nome dell'uragano, ha provocato la morte nelle Filippine di almeno 30 persone, tra cui una bambina di 8 anni. L'arrivo della tempesta era annunciata, tanto che oltre 1700 persone sono state evacuate prima del suo passaggio. Le inondazioni ora paralizzano anche la circolazione, difficile far arrivare gli aiuti nelle zone colpite, impossibili gli interventi anche attraverso gli elicotteri. In movimento da est verso ovest, Jiangmi ha lambito anche la Thailandia meridionale e investito la Malaisia, provocando almeno 10 morti. Drammatico il numero degli spollati, quasi 220.000, in una delle peggiori emergenze degli ultimi 30 anni nel paese. Drammatico il numero degli spollati, quasi 200.000, in una delle peggiori emergenze degli ultimi 30 anni.